Davanti alla macchina da presa ci sono un po' di cose a cui fare attenzione. Una di queste sono gli occhi. Gli occhi del cuore, gli occhi del cuore. Agli occhi del cuore devi sempre fare attenzione ma questo video è dedicato in particolare agli occhi della testa. Scoprirai perché sono così importanti per chi lavora al cinema. È sufficiente per frequentarci, non crede? Il mio nome è Sherlock Holmes e l'indirizzo è il 221B di Baker Street. Hai appena visto un attore che ha costruito ben due personaggi utilizzando il battito ripetitivo degli occhi durante le riprese. Si chiama Martin Freeman. Il blink, e cioè il battito delle palpebre, non è l'unica cosa a cui bisogna stare attenti ma è certamente un aspetto a cui sul set bisogna dedicare un po' di cura. Questo video è supportato da artisti 7607. Lo sapevi che sostengono gli artisti come te in un sacco di modi? Vai a vedere sul loro sito, il link è nella descrizione del video. E ovviamente iscriviti al canale perché ti sarà molto utile per la vita. Ma torniamo agli occhi e facciamo alcune considerazioni. Al cinema il primo piano è un'inquadratura molto usata. Questo significa che la faccia dell'attore si vede molto da vicino. Questo significa che su uno schermo del cinema un occhio può arrivare a misurare anche 2 metri quadri. Ora ti è chiaro perché il controllo dello sguardo e delle palpebre al cinema assume un'importanza fondamentale, no? Questo non significa che tu non debba mai sbattere gli occhi quando sei inquadrato anche perché altrimenti potresti sembrare uno psicopatico, no? Ma significa che le palpebre battono non quando vogliono loro, ma quando lo vuoi tu. Non ci credi? Controlla tu stesso, vai a vedere gli attori come fanno. Gli attori veri non le me*****e. E so che la sua analista pensa che il suo zoppicare sia psicosomatico, diagnosi corretta, Temo. È sufficiente per frequentarci, non crede? Tipo questi, i bravi attori controllano lo sguardo. Certo, un blink può sfuggire, ma occorre applicarsi sistematicamente per avere controllo. A volte questa cosa funziona anche con le ragazze, con l'altro sesso. Insomma, con il sesso che piace a te. In aggiunta, allenarsi per questa cosa è molto facile. Basta andare in giro senza sbattere gli occhi a caso. La prossima volta che guardi un film, un film vero, con attori veri, prova a buttare un occhio sugli occhi. E già che ci sei, prova a guardare anche come è gestita questa cosa nei film di animazioni. Ma io posso cambiarti! Io posso trasformarti nel guerriero dragone e lo farò! Sorprendente, vero? Dal momento che qui i personaggi sono digitali, occorre inserire il battito degli occhi in qualche punto, per renderli più credibili. Ecco allora che anche nei film d'animazione vengono inseriti blink. Ma attenzione, non vengono inseriti a caso. Vengono messi in punti precisi perché anch'essi devono comunicare qualcosa. Vuoi fare un'ultima verifica? Vatti a vedere tutti i video del mio canale e controlla quante volte batto le palpebre in ogni video. Buona ricerca! Oh, può fare, può farissimo! È tardi, è tardi, è tardi! Hai ragione, Bianconiglio. È ora di chiudere. Nel prossimo video parleremo ancora di occhi, ma affronteremo l'argomento direzione dello sguardo. Verifica tu stessa o tu stesso quello che ti ho raccontato guardandoti qualche buon film. E vatti a vedere gli altri video sul mio canale. Se conti più di una volta il battito degli occhi a caso per ogni video, offro la cena. Tipo quando si sbattono gli occhi quando si cambia la direzione dello sguardo. Oppure si decide, a tu stai dicendo che lei è stata con un altro. Oppure puoi stare tantissimo con gli occhi aperti. E così via. anche se devo dire che con una mia allieva di teatro ho perso. Siamo due a uno per lei, ma prima o poi pareggerò, Elena.